Papà sono arrivati all'analisi Mi hanno trovato un tumore Oggi i finanziamenti li danno solo agli anni 35 e alle donne Ma c'è un'altra soluzione, le coproduzioni stranieri Qui abbiamo diverse chance Ottico Secondo lei la storia si può ambientare anche all'estero? Sì, sì Cioè, magari uno la riadatta, la riscrive Però sì Lei aveva un'idea già precisa, eventualmente devo ambientarla Azerbaijan Lì c'ho diversa inglese Lo servisci un sacco Perché le ragazze sono socializzate, quindi vogliono gli uomini essere seguiti Già, hanno l'argento, hanno il status, mentre si giocavano insieme È scappato di casa, ne sono certa Ma come tu fai a dirlo, dai Tu volevi ammazzargli la pina Oh, fermi tutti qui, un momento Chi ha minacciato lei? Ma chi ha, chi ha minacciato? Non ho minacciato nessuno, è un animale E tutta colpa tua se n'è andato Deve averti sentito che la volevi ammazzare Oh, ammazzare? La ritunfa Magari invece si è perso Maledetta allergia Maresciallo, cosa sta succedendo qua? Eh, maresciallo, chi non ci si capisce nulla I signori sono venuti per denunciare lo smarrimento di un minore Invece poi è venuta fuori questa storia di minacce e di morte di una certa signora pina No, ma chi ha capito? È una papera Sì, sì, ho capito benissimo io Un errore, una papera Di con tutti così affrittata fa Raffreddato? Ma che allergia Insomma, tre bambini e una papera, ne è sicuro? Sicurissimo Come te, scusi maresciallo Noi abbiamo avuto una denuncia per lo smarrimento di due bambini Ma il terzo chi è? Ma che ne so, piuttosto maresciallo Hai segnato tutto? Sì maresciallo Adesso ho capito tutto Siete due marescialli No, il maresciallo sono io Grazie per la collaborazione Vada, vada, vada Certo maresciallo tu ti potrei chiamare anche in un altro modo Maresciallo non c'è problema Ma io te l'avete questa promozione Così divento maresciallo di nome e di fatto Cosa hai fatto a cotesto dito? Me lo son chiuso in un cassetto Allora prima di tutto impara a chiudere per bene i cassetti E poi se ne rifarla Oh, se ne rifarla però Allora prima di tutto